Buongiorno e ben trovati, siamo a Livigno, siamo in un bellissimo 4 stelle che si chiama Hotel Flora ed è ubicato in centro. Siamo con la signora Ela che è la responsabile del ricevimento appunto dell'Hotel Flora. Buongiorno Ela. Buongiorno. Buongiorno. Quando nasce questo hotel? Allora l'Hotel Flora nasce nell'anno 2000 per opera dei mezzi Stefano ed Erika. Questo è un albergo 4 stelle direttamente in centro Livigno. Siamo direttamente sulle piste da sci perché è un punto strategico sia per un versante che per l'altro. Quali sono le caratteristiche del vostro hotel? Allora il nostro hotel è dotato di centro benessere, piscina, abbiamo il garage coperto è molto importante visto le temperature che ci sono a Livigno, sì è un punto a nostro favore. L'hotel è dotato di 19 camere, sono tutte camere ampie, abbiamo anche suite e junior feet che sono su due livelli. Quali sono i dati relativamente all'andamento stagionale del vostro hotel? Allora sta andando molto bene la stagione, abbiamo avuto un incremento dell'8% rispetto all'anno scorso, abbiamo avuto una clientela straniera nord Europa e dell'est e nei periodi clou anche italiani. Perfetto. Vogliamo dare i requisiti per potervi contattare direttamente in hotel? Potete trovare tutti i nostri dati al nostro sito che è www.hotelfloralivigno.it Perfetto, ringraziamo allora la signora Ela, invitiamo tutti coloro che ci vedono da casa a venire a Livigno e magari all'hotel Flora poter prenotare. Da Livigno è tutto, a voi studio. Arrivederci.